Per risolvere così questo errore riguardo alla cartella condivisa che non puoi accedere eppure c'è un errore riguardo all'unità sul disco, quindi è possibile risolvere il problema andando direttamente su questo PC. Quindi se qua c'è la cartella condivisa sul tuo computer vai direttamente sul tasto destro sopra sul volume, mostra le altre opzioni, proprietà, vai su sicurezza, vai su proprietà, vai su modifica e vai direttamente a mettere aggiungi. Vai su avanzate, trova, scendi fino a giù, fino a trovare everyone, tutti, inserisci così everyone, fai clicchi qua sopra, fai ok e lo aggiungi. Una volta aggiunto sarà messo qua dentro su tutti i gruppi, utenti e gruppi everyone, controllo completo, metti consenti tutti. Una volta fatto poi farà un lunghissimo caricamento, quindi dovrai aspettare, quindi farà anche un controllo sulla sicurezza dell'unità mettendo tutta la condivisione sugli utenti. Tutti i PC, quindi tutti gli utenti del computer possono poi accedere alla cartella condivisa e fare ok. Per altri problemi ancora puoi sempre commentare sotto al video, cercherò di realizzare un'altra guida in futuro, quindi grazie a tutti per questa visione. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao.